Domani primo insediamento del Consiglio Comunale di Caltanissetta, per la prima volta sarà una donna come presidente perché più suffragata per insediare il civico con sesso, lei è Giovanna Mulè. Non sarà il letto invece durante la prima seduta del Consiglio Comunale il presidente che durerà per tutti e cinque anni, questa è ormai una certezza. Accadrà quasi sicuramente alla seconda seduta per una serie di ragioni, la prima di carattere regolamentare, perché il giorno dell'insediamento del Consiglio mancherà un consigliere dei Cinque Stelle per un impegno personale assunto prima della campagna elettorale, dunque il regolamento prevede il plenum per l'elezione in prima convocazione. La seconda ragione, non meno importante, ancora all'interno del Movimento Cinque Stelle, che avendo la maggioranza di 15 consiglieri eleggerà il presidente, non si è ancora discusso sul nome. In pole position Giovanni Magri, consigliere anziano del gruppo, militante della prima ora, che ha fatto un passo indietro rispetto alla candidatura sindaco a favore di Roberto Gambino. Intanto balza subito agli occhi, guardando la geografia del Consiglio Comunale, il cospicuo numero di presenze femminili in Consiglio, mai così tante. Sono 11 le consigliere elette e la più giovane a 28 anni ed è Federica Scalia. Poi vi sono Angela Caruso, Adele Castellana, Tilde Falcone, con una passata esperienza amministrativa, è stata assessore provinciale alle politiche sociali durante la presidenza in provincia di Filippo Collura. E poi Oriana Mannella, al suo secondo mandato da consigliera. Ed infine Elisa Faraci, Martina Mancuso, Giovanna Mule, la più suffragata, come abbiamo detto, che avrà l'onore di aprire la seduta, Anna Maria Polidoro, Nina Schirmenti, Valeria Visconti. Sono 13 consiglieri laureati che entrano a Palazzo del Carmine, architetti, ingegneri, avvocati e poi numerosi si sono occupati del mondo del sociale e vengono dalle attività di volontariato. Tra gli scanni del consiglio la maggioranza siederà a sinistra e l'opposizione a destra. La prima seduta, che si terrà domani mattina alle nove e mezza, sarà più che altro una cerimonia di insediamento durante la quale i consiglieri leggeranno la formula di rito e presteranno giuramento nelle mani della vice segretaria generale Angela Polizzi, che in questo momento fa funzioni di segretario generale. Le surrghe saranno materia del consiglio successivo. Una sola in prospettiva, quella che riguarda l'assessore Marcello Frangiamone, che si dimetterà al suo posto, entrerà Giuseppe Di Francesco.